Benvenuti a Rischia Niente con Info Strada. Lei è Info e lei è Strada. E buonasera anche a lei signora Berti. Buonasera signor Mike. Pronta per giocare? Certo. Questa sera lei non deve cantare, deve contare. Mi scelga un numero. Mi gioco il 19 95. Sa signor Mike, la mia bolletta del telefono è diventata un incubo. A casa mia non si fa che telefonare e i miei figli navigano dalla mattina alla sera. Ma chi lo dici? Io ho lo stesso problema con i miei figli. Ma stanotte ho sognato Info Strada tutto incluso. Solo 19,95 euro per avere tutto. Telefonate e ADSL. Bene, allora io direi che possiamo iniziare il nostro gioco. Allegria! 19,95! Ma è proprio l'offerta tutto incluso per telefonare e navigare velocemente su internet senza limiti e senza più preoccupazioni. Allora attenta, questo è il giro più importante. Scelga sì Canone Telecom o no Canone Telecom. Ovviamente no Canone Telecom. La signora ha fatto una scelta intelligente. No Canone Telecom! Lei ha vinto e non paga più i 14 euro mensili per il Canone Telecom. Complimenti signora mia! Però sono indecisa. Ai 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 signora, si affretti perché Info Strada tutto incluso è in promozione. Allora appunto sul 159. Eh no, non so se questo è possibile. Il numero mi sembra troppo alto. Lo devo chiedere al notaio? Mike, il 159 è corretto. È il numero da chiamare per attivare Info Strada tutto incluso. Ah, allora va bene. Ma questa signora dobbiamo dire proprio fortunata. Ha puntato tutto sul numero giusto. Ci puoi scommettere sul 159. Anzi, chiamo subito. Tutto incluso. A meno di 20 euro al mese telefonate a DSL senza limiti. Orietta, lei è bravissima. Ha vinto tutto. Ma la prego, lasci. Perché se lei raddoppia, ci manda in rovina. Chiama il 159 o vai su infostrada.it.